Buonasera, l'incontro tra Renzi e le Regioni a quanto pare ha avuto un esito interlocutorio molto negativo per i governatori d'opposizione, quelle delle Regioni del Nord a guida leghista, interlocutorio appunto per Chiamparino e per gli altri che cominciano a cercare una strada d'uscita all'impasse che si è creata appunto tra le Regioni e il Governo Centrale dopo il varo di una legge di stabilità che dà appunto alle giunte regionali meno fondi di quanto non era stato, a quanto pare in un primo tempo pattuito soprattutto in tema di spesa sanitaria. Ma questo è il braccio di ferro che riguarda una legge di stabilità di cui parleremo ancora molto, è la battaglia politica di questa fase. C'è un fatto di prima grandezza che viene dal mondo giudiziario, da quella famosa e per molti versi velenosa vicenda che ha portato come si sa anche le più alte cariche dello Stato a essere interrogate, il Presidente Merito è napolitano, lo ricorderete quando era ancora capo dello Stato, insomma la vicenda della trattativa Stato-mafia, perché c'è stato il primo verdetto, la prima sentenza nel processo a Calogero Mannino, ex ministro democristiano che è stato assolto per non aver commesso il fatto. è un durissimo colpo, diciamolo subito, alla tesi della Procura di Palermo, perché secondo i magistrati, secondo i giudici appunto non c'è traccia di quella trattativa e la figura di Mannino era in qualche modo una figura cardine di tutto l'ordito della tesi della accusa. Subito Di Matteo e gli altri PM della Procura di Palermo hanno detto impugneremo la sentenza, andremo in appello. Più cauto il procuratore lo vuole, che ha detto leggeremo e valuteremo, probabile l'appello ma è ancora presto per parlare. E anche questa divaricazione la dice lunga sulla situazione e sul colpo d'incontro che ha subito la Procura palermitana, i magistrati della Procura palermitana su un processo così importante che da tanti anni viene discusso in ogni, praticamente in ogni sede. E domani inizia un altro processo, mafia capitale e Roma vive la singolare situazione di una corrosiva inchiesta sulla città e sulla sua amministrazione e contemporaneamente come si sa un'altra corrosiva inchiesta su quello che succede al di là del portone delle mura vaticane. E sul cosiddetto Vatilix impallidiscono le figure un po' folcloristiche di cui abbiamo parlato in questi due giorni e si comincia a parlare di cose molto più corpose delle finanze, di grandi finanzieri. Come vedremo, c'è un tema politico invece una duro botta e risposta, come vedremo, che ha per teatro l'uscita di nuovi dissidenti dal Partito Democratico. Se ne vanno in tre, il più famoso è Dattorre, ma c'è Mineo che pochi giorni dopo essere andato a sua volta lancia velenose, davvero velenose accuse a Renzi. Vedremo. Poi un altro caso forte, la Volkswagen, ancora modelli, questa volta a benzina e ancora a tarocco, questa volta sul controllo delle emissioni di CO2. La vicenda, se possibile, potrebbe essere ancora più grave delle altre e il titolo crolla definitivamente in borsa e adesso sono guai molto più seri, se possibile, per la Volkswagen. Ci sarà ancora da parlare dell'aereo perché è quasi certo ormai che si sia trattato di un attentato, tant'è che British Airways non andrà più nel Sinai e c'è la sentenza al processo Ceste, 30 anni al marito. 30 secondi di titoli. Al vertice governo Regioni Renzi porta in dono il decreto salva Regioni che andrà venerdì in Consiglio dei Ministri, ma non c'è accordo, non c'è mediazione che abbia funzionato. I governatori del Nord legati all'opposizione, Maroni, Totti, Zaia, si dichiarano delusi. Interlocutori invece Chiamparino. Stato mafia assolto, Calogero Mannino, l'ex ministro democristiano era accusato dalla procura di Palermo di aver avviato la trattativa tra pezzi dello Stato e vertici di Cosa Nostra all'inizio del 92. È stato prosciolto per non aver commesso il fatto. È il primo verdetto della controversa e lunga vicenda. È finito un incubo, ha detto Mannino. Il Comune di Roma parte civile al maxiprocesso mafia capitale che inizia domattina. Vedrà la sbarra a 46 persone, tra cui le due figure apicali di quella consorteria criminale, Buzzi e Carminati. Dall'altra parte del Tevere il vero ingrediente di Vatilix sembrano essere gli ingenti capitali che fluttano. Indagato Nattino, presidente della banca Finnat, è sospettato di aver usato i conti del patrimonio della sede apostolica per transazioni in borsa. Finite poi sui conti svizzeri. Si apre con fragore un nuovo caso Volkswagen. Dopo il Dieselgate ora sono sotto accusa le emissioni di anidride carbonica dei motori a benzina, confermate nel Parlamento tedesco dal Ministro dei Trasporti. CO2 fuori norma per 90.000 vetture, ma sarebbero molte di più e il titolo perde in borsa quasi il 10%. La Gran Bretagna, dopo la Germania e la Francia, ferma i voli sulla penisola del Sinai per timore di attentati ed è sempre più probabile, e questa è la vera motivazione, che la tragedia dell'aereo russo sia stata provocata non da un guasto tecnico ma da un ordigno e l'Isis continua i suoi proclami. Lo abbiamo abbattuto noi. 30 anni per l'omicidio di Elena Ceste, la condanna del marito della donna scomparsa nel gennaio del 14 nell'Astigiano, il cui cadavere fu trovato nove mesi dopo in un canale non lontano dalla sua abitazione. Buonasera, il braccio di ferro tra governo e regioni non si è ancora concluso, non ha vinto nessuno e soprattutto ci vorranno altri incontri. Insoddisfatti i governatori delle regioni del nord a guida del centro-destra, interlocutare la posizione degli altri, mentre Chiamparino conferma le sue dimissioni da Presidente della conferenza delle regioni. Le mie dimissioni, ho spiegato pochi secondi fa, non hanno nessuna attinenza con la battaglia sulla legge di stabilità, riguardano quello che è successo. La Corte Costituzionale ha cambiato i parametri e il Piemonte ora si trova aggravato da un forte deficit. Ma proprio su questo, su quello che è successo nei bilanci delle regioni per effetto della sentenza Corte Costituzionale, proprio Renzi ha portato all'incontro con le regioni un dono, una dote, che è il decreto salva regioni, sarà chiamato così, che andrà appunto venerdì in Consiglio dei Ministri in cui si risolve il problema contabile originato proprio dalla sentenza di cui vi parlavo. Ma la questione, come sappiamo, è un'altra. La battaglia è sui soldi per la sanità e quindi è una questione che riguarda tutti i cittadini. Incontro insufficiente, aria fritta, dice Roberto Maroni. Ma il governatore ribelle del Piemonte, Sergio Chiamparini, che aveva parlato di una manovra punitiva dopo un'ora e mezzo di faccia a faccia col governo, dice che la sua è un'impressione positiva. Abbiamo definito un'intesa di merito, un'intesa a metà strada tra quel miliardo progressivo annuale, 109 lo scorso anno, 110 quest'anno, 111 il prossimo e quei tre in più promessi dal governo. Di mattinata già qualcuno aveva provato a recuperare la situazione. Bicchiere mezzo pieno, diceva il governatore della Toscana, Rossi, e in serata la Serracchiani, diceva che qui non ci sono né avversari né controparti, occorre solo trovare una soluzione. Con Renzi, che procedeva spedito lungo la strada sua, guai a parlare di tagli alla sanità, non diciamo bugie. Chi dice che ci sono i tagli deve fare i conti con i numeri, perché la matematica non è un'opinione. Per Toti, Liguria, un accordo andava trovato assolutamente già stasera. Accordo già trovato? Forse no, ma la strada della mediazione probabilmente da qualche parte porterà. Il faccia a faccia, rigorosamente a porte chiuse, è durato un'ora e mezzo. Poco prima, Padoan, senza voler entrare nel braccio di ferro con le regioni, aveva detto che c'è un'esigenza generale, migliorare l'efficienza del sistema sanitario. E sulla manovra si può avere un giudizio positivo o negativo, ma prendere in esame singole, isolate misure, porta a un giudizio distorto e incompleto. Allora, l'altra grande notizia della giornata è importante perché ne abbiamo parlato fino allo sfinimento di quella trattativa fantomatica o reale tra lo Stato e la mafia che più di vent'anni fa portò, come si sa, secondo le accuse, a un grave rischio per le nostre istituzioni. Il fatto si è che invece il primo verdetto, la prima sentenza di una corte su questa vicenda dice il fatto non fu commesso. È la questione che riguarda l'ex ministro dell'agricoltura, democristiano Calogero Mannino, il primo a finire sul banco degli imputati, il primo a richiedere il rito immediato e quindi abbreviato che è arrivato a sentenza proprio oggi. E la sentenza è molto chiara. Appunto, l'assoluzione per non avere commesso il fatto di fronte alla quale la procura di Palermo ha vacillato un colpo d'incontro che evidentemente costituisce un precedente per tutto il resto del procedimento, quello che vede altri, tra cui l'ex ministro dell'interno Mancino, tra gli imputati. Vediamo. Al primo vaglio, al primo passaggio non ha retto. L'accusa di violenza o minaccia al corpo politico dello Stato si è sciolta come un ghiacciolo al sole. Quell'articolo 338 del codice, utilizzato in casi remoti, è venuto giù. Calogero Mannino, ex ministro democristiano, finito sul banco degli imputati nel processo trattativa, Stato-mafia è stato assolto. È la prima sentenza del filone trattativa. Mannino è l'unico ad aver scelto il rito abbreviato. Il suo processo ha avuto un binario a parte. Per questo il verdetto emesso oggi dal GUP dopo circa due anni di dibattimento e onora di Camera di Consiglio assume una rilevanza particolare. Non solo perché il primo test, ma anche perché nell'ipotesi dell'accusa, in quella catena della cosiddetta trattativa tra Stato e mafia, che sarebbe stata avviata nel 92, durante la stagione delle stragi, Mannino rappresenta l'anello numero uno, l'origine del tutto, la scintilla iniziale, l'ispiratore, colui che aveva avviato il patto con i boss perché temeva per la propria incolumità. Ora questa assoluzione, per non aver commesso il fatto, rappresenta un colpo all'impianto dell'accusa che aveva chiesto nove anni e l'interdizione dei pubblici uffici scure le facce del procuratore aggiunto Teresi e dei sostituti di Matteo del Bene e Tartaglia che hanno preannunciato appello. Impugneremo la sentenza più prudente, il procuratore capo di Palermo lo voi, aspetteremo le motivazioni. Gongola invece l'ex ministro democristiano e parla di accanimento nei suoi confronti. Decisamente è un accanimento. La tesi accusatoria nei miei confronti è tutta fantasiosa. Io ho sempre servito lo Stato e la Repubblica italiana con estrema lealtà. L'ex esponente di C era già stato processato per concorso esterno in associazione mafiosa, accusa per cui fino in carcere nel 95, assolto in primo grado, condannato in appello, poi rinviato dalla Cassazione, assolto definitivamente nel 2010. Oggi dice è finito un incubo, non sono una vittima della giustizia semmai di alcuni pubblici ministeri. Intanto il processo trattativa per gli altri imputati da Totò Riina al generale dei Carabinieri Mario Mori va avanti sul binario del rito ordinario ma l'intera costruzione della procura scricchiola di fronte alla sentenza di oggi. Aggiorniamo quello che è successo nell'altra trattativa, quella tra lo Stato e le regioni. Secondo ricostruzioni che vengono autorizzate, diciamo così, da Palazzo Chigi, Renzi avrebbe introdotto la riunione dicendo abbiamo due strade o scegliamo il muro contro muro e la demagogia oppure giochiamo la carta della serietà e in quel caso noi ci siamo. Se vogliamo possiamo lavorare insieme per governare i processi complicati della sanità però dobbiamo essere chiari, non c'è taglio alla sanità, ci sono meno soldi di quanto non chiedano le regioni ma i fondi comunque aumentano e si passa a 111 miliardi. È una linea che per quello che se ne sa è stata accettata, bon gré mal gré, dai governatori del centro-sinistra, eletti con lista di centro-sinistra mentre comunque sono stati molto più duri i tre governatori del nord che sono stati eletti col centro-destra, Toti Liguria, Maroni Lombardia, Zaia del Veneto e sono quelli che all'uscita hanno usato le parole più dure nei confronti dell'incontro che c'è stato parlando di assoluta insoddisfazione. Andiamo adesso a vedere l'altra vicenda, l'altro processo, siamo usciti da una sentenza, quella che riguarda Mannino e si parlerà tanto di quella vicenda stato-mafia della trattativa che secondo i magistrati non c'è stata, secondo i giudici e domani inizia un altro processo, un altro tipo di mafia, mafia è capitale, è il processo per la consorteria di Buzzi e Carminati e proprio oggi in extremis la parte civile del comune di Roma si è aggiunta, il commissario Tronca ha firmato appunto l'atto. Prima iniziativa giudiziaria per il prefetto che sostituisce il sindaco di Roma, Francesco Paolo Tronca ha firmato la richiesta di costituzione di parte civile nel processo al mondo di mezzo che comincia domattina rivendicando per la città un danno funzionale, economico e d'immagine. Per gli avvocati del Campidoglio, mafia capitale ha mutuato dalla banda della Magliana alcune caratteristiche organizzative, si è adattata alle particolari condizioni storiche, politiche e istituzionali della città, assumendo una fissionomia del tutto originale e raggiungendo uno stadio di evoluzione avanzato nel quale il ricorso alla violenza e ai reati tipici delle organizzazioni è ridotto al minimo indispensabile e il core business dell'associazione è rappresentato dagli affari e dagli appalti pubblici. Il Campidoglio sposa la tesi della procura, la mafia a Roma c'è, indossa vesti diverse da quelle tradizionali ma è un'associazione mafiosa quella che negli ultimi dieci anni si è spartita la città. La pensa così anche la decima sezione del tribunale? Deve giudicare 46 imputati ai quali la procura vuole aggiungere in corsa l'ex sindaco Gianni Alemanno. Fisicamente assenti i boss Massimo Carminati a Parma, Salvatore Buzzi a Tolmezzo, Riccardo Brugia a Terni, Fabrizio Franco Testa a Secondigliano. Niente aula per loro, sono i capi e gli organizzatori dell'associazione di stampo mafioso ricorda la procura al tribunale, dunque si impone la celebrazione del dibattimento a distanza. Presenti via monitor anche gli imputati detenuti fuori Roma, l'ex amministratore delegato di Ama Panzironi, l'ex presidente PD dell'Assemblea Capitolina Coratti, l'ex capogruppo PDL alla regione Lazio Gramazio, l'ex gestore dei bar della Rai, Iietto, i due endranghetisti amici di Buzzi, Rotolo e Ruggero, il dirigente del reparto Giardini, Turella, i collaboratori della 29 giugno, Guarani, Di Nino Caldarelli. In aula, al fianco dei legali, solo gli imputati ai domiciliari o a piede libero. Luca Odevene non ha voglia di esserci. Giovanni De Carlo, l'amico di Belen e dei mafiosi, rimane a casa di fronte alla Cassazione e non ci sarà nemmeno il super dirigente di Ente Eur, Carlo Pucci. L'ex consigliere comunale PDL e tre decine, chissà, ai domiciliari, attende ad ORAS risposta all'istanza di scarcerazione. Altri imputati decideranno all'ultimo istante se saranno in grado di reggere l'impatto con l'aula e col gran circo mediatico pronto a scatenarsi a Piazzale Clodio. Un solo uomo vorrebbe partecipare e non può. Ignazio Marino. Andiamo a vedere, a proposito di persone che sono finite in urto con la leadership del Partito Democratico, il caso Dattorre e il caso Mineo, che scoppiano nello stesso giorno. Dattorre e altri due parlamentari del PD lasciano il gruppo parlamentare del partito. Mineo, che se ne è già andato e se ne esce con delle frasi molto velenosi, a nostro avviso troppo velenose, proprio nei confronti del Premier. C'è un'ultima micro scissione nel PD. Se ne vanno i bersaniani Alfredo Dattorre e Vincenzo Forino, insieme al politolgo cuperliano Carlo Galli. Parlano di mutazione genetica del partito, di rischio che sparisca la sinistra in Italia. La legge di stabilità, solo l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, spiegano, dopo riforme costituzionali ed elettorale, Jobs Act e scuola. Se sono arrivato a questa determinazione è perché mi è parso progressivamente che non ci fossero alternative per la piega politica, programmatica, ideale che il PD ha progressivamente assunto. Perché con Renzi il partito si è spostato al centro, anteposto il profitto al lavoro, spiegano i tre deputati, insieme ai già fuoriusciti Mineo, Fassina Gregori. Ha abbandonato ogni radice, non solo di sinistra ma anche ulivista. Il collettivo è diventato appendice inerte del Premier, comitato elettorale e ufficio stampa. E c'è spazio politico a sinistra che che ne di carenze all'analisi del professor Galli, anche perché il sistema non è più bipolare. Via dunque, ma non chiamateci con folclore cosa rossa, chiedono i fuoriusciti. Abbiamo un approdo credibile, sabato nasceranno i nuovi gruppi con i parlamentari di Seil e poi un partito. Sembra che sarà semplicemente sinistra il suo nome. Alla prova già nelle prossime amministrative, magari con Fassina, candidato sindaco di Roma. Civati resta per conto suo, vuole aggregare i delusi dei 5 Stelle ma ci raggiungerà, sostiene Dattorre. Un addio comunque con sofferenza, il distacco si consuma anche con la minoranza che sceglie di restare nel partito. Un brutto giorno, dicono Speranza e Bersani. Io rimango, dice l'ex segretario, lavoro nel PD perché cambia e rimanga di centro-sinistra. Renzi alza le spalle all'assemblea dei parlamentari ieri sera, ha contrastato gli argomenti degli scissionisti. Non ci stiamo spostando al centro, tanto è vero che sono di più i deputati che si sono uniti a noi in uscita da Selk e quelli andati via. Ma non manca una coda velenosa. Renzi, nel nuovo libro di Vespa, attacca il senatore Mineo che ha dato l'addio al PD la scorsa settimana. Un anno fa annunciò le dimissioni da senatore dopo aver offeso in modo squallido i bambini autistici. Disse, ho sbagliato, me ne vado. È sempre lì a spiegare come va il mondo, al massimo si dimette dal PD ma la poltrona non la lascia. Fu ribondo l'ex direttore di Rai News. Il premier ha diffuso un sms privatissimo, allora mi convincerò a ripensarci. Ma lui sa che io so, so quanto possa sentirsi subalterno a una donna bella e decisa fino al punto di rimettere in discussione il suo stesso ruolo di governo. Io so, ma non rivelo dettagli di conversazioni private. Come vedete le allusioni sono pesantissime. È abbastanza evidente che fanno riferimento al premier e al ministro per le riforme. Ma questa strada l'abbiamo già percorsa in passato in maniera velenosa in questo paese. Non si sente il bisogno di tornare a quell'epoca vicina e molto brutta. Voglio solo però ricordare che c'è qualcosa che non funziona. Pochi giorni fa, proprio su questa rete, il governatore della campagna si è lasciato andare a dei giudizi ingiustificabili sul presidente dell'antimafia, Rosi Bindi. Oggi queste uscite di Mineo. Non dimentichiamo quello che hanno fatto Barani e Danna. Cerchiamo di ricordare che siamo un paese in cui esiste la parità uomo-donna. Almeno questo. E almeno in Parlamento. Andiamo ora a parlare della vicenda Vatilix. Perché al di là degli aspetti folcloristici la Pierre Chauquie, il prelato dell'Opus Dei che aveva il vizio della bella vita e comincia a emergere qualcosa di più corposo. E tanto per cambiare di finanziario. Sotto il cupolone di tutto. C'è la PR spregiudicata, arrestata poi rilasciata, c'è il monsignore Corvo, balda. C'è anche l'attico del cardinal Bertone. Ma al di là delle facili figure retoriche dei libri, il vero ingrediente della storia sono i soldi, il vil denaro. Questo signore è il titolare di una banca a conduzione familiare, la Finnat, quotata a Milano. Si chiama Gianpietro Nattinone, è il presidente. Gli investigatori vaticani sospettano abbia usato lui i conti dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, APSA, per transazioni in borsa. E l'incasso sia poi finito in Svizzera, per disperdersi non si sa bene dove. Ma oggi si scopre anche che per 40 anni lo IOR, quello IOR, operato in Italia senza autorizzazione, dice la procura di Roma, faceva credito abusivamente. Nel 2011 la Banca d'Italia aveva messo alle strette la banca del Papa, ma lei si era diligentemente spostata in Germania. Padre Lombardi, portavoce della sala stampa vaticana, ha detto oggi che il Papa è sereno, non sconfortato. I corvi erano in fondo tracciati, era stato sparso becchime falso per farli abboccare e l'hanno fatto. Vatilix, viene spiegato oggi, è già stata superata dalle riforme volute dal Papa. Ma più si va avanti, più si capisce che al netto del fumo degli incensi e delle trame da racconto noir, il Papa, che di nome ha scelto Francesco, il nome del santo degli ultimi, si ritrova a lottare di nuovo, ma mai ha smesso, contro chi ha tentato di usare la Chiesa per gestire interessi non della Chiesa. Interessi immensi. Il Vaticano è uno Stato e quindi ha un PIL, costituito anche da un patrimonio di circa 2.000 miliardi di euro in immobili, un milione di complessi tra edifici e terreni in tutto il mondo. Pare anche che un quarto della proprietà di Roma sia della Chiesa e si alimenti di continuo con donazioni e testamenti. Chi ha fatto due conti dice che questo Paese senza confini esatti può contare nel mondo sullo stesso numero di ospedali, università e scuole di un gigante come gli Stati Uniti. Ed è vero, il Vaticano fa welfare, cura gli ultimi, quando lo Stato non riesce più, ma è straordinariamente ricco. Soldi benedetti si diceva un tempo, ma sembra non sia sempre andata così. Non c'è ancora la certezza su cosa avvenne su quel volo esploso, su quell'aereo esploso sopra la penisola del Sinai, ma ogni giorno si fa più vicina la probabilità che sia stato un atto ostile, un atto terroristico. Tant'è che oggi una compagnia delle più importanti ha deciso di non fare più la tratta che arriva alle spiagge di Sharm el-Sheikh e le altre appunto sulla penisola del Sinai. Le scatole nere si stanno analizzando da parte degli esperti antiterrorismo egiziani, ma le parole che più fanno impressione sono quelle che arrivano da Mosca, dove quella tesi, la tesi terroristica, viene data ormai per certo. La fonte della notizia è un comunicato ufficiale di Downing Street. Stasera tutti gli aerei britannici in partenza dallo scalo egiziano di Sharm el-Sheikh restano a terra, finché le squadre speciali inviate dal governo di sua maestà non avranno controllato la sicurezza dell'aeroporto stesso e nessun volo britannico partirà verso il Sinai. Non ci sono ancora certezze su cosa sia successo all'Airbus precipitato sabato mattina, afferma il comunicato che però aggiunge alla luce di nuove informazioni temiamo che il volo metrojet potrebbe davvero essere stato abbattuto da una bomba. Il primo ministro David Cameron che ieri sera ha avuto una lunga conversazione telefonica con il presidente egiziano al Sisi, in questo momento è in riunione con il comitato di sicurezza nazionale, il cosiddetto COBRA. Poco fa il portavoce della Casa Bianca ha detto noi non abbiamo informazioni aggiuntive ma si sapeva da tempo che l'area del Sinai è un'area ad alto rischio, i nostri voli commerciali non passano da lì. Ancora oggi con un video e con un messaggio audio diffusi su internet un gruppo egiziano affiliato all'Isis e che si è battezzato provincia del Sinai ha ripetuto di essere responsabile del disastro. Non vi sveleremo come abbiamo fatto, non ancora, ma vi sfidiamo a dimostrare che non siamo stati noi. Nel video ci sono i festeggiamenti per la strage e anche nuove minacce indirizzate a Vladimir Putin definito un maiale e alla Russia invaderemo il vostro territorio. La tragedia insomma potrebbe essere davvero la vendetta del gruppo terroristico per i bombardamenti russi in Siria. I medi egiziani per tutta la giornata hanno fatto trapelare indiscrezioni. Prima la conferma che l'aereo sarebbe precipitato a causa dell'esplosione di un motore ma non si sa se è dovuta a un guasto o appunto ad una bomba. Poi la notizia che nei resti dei corpi dei passeggeri sarebbero state trovate schegge di metallo. Infine che una delle due scatole nere, quella con incise le voci dei piloti e i rumori nella cabina, sarebbe rimasta danneggiata nell'impatto col suolo. Dovrebbe essere invece intatta l'altra, quella con i dati degli strumenti di bordo. La chiave più importante per capire davvero chi o che cosa abbia ucciso le 224 persone a bordo dell'Airbus insieme alle analisi sui rottami. Intanto oggi la ricerca di tracce è stata estesa in un raggio di 40 chilometri intorno al relitto. Lo hanno comunicato le autorità russe. E poi c'è la vicenda di Cronaca che molta parte dell'opinione pubblica immagino ha seguito dell'uccisione di quella donna in Piemonte, il Naceste. Oggi la sentenza del processo di primo grado, una dura condanna al marito ritenuto colpevole. 30 anni per il marito Michele Buoninconti. È il primo verdetto giudiziario per il mistero della scomparsa e della morte di Elena Ceste. Il giudice ha dato ragione all'accusa che aveva chiesto la massima pena prevista col rito abbreviato, 30 anni, per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Di Elena Ceste, 37 anni, si perdono le tracce il 24 gennaio 2014. È il marito a denunciarne la scomparsa dalla loro casa di Costigliole d'Asti. La sua versione sarà che la donna gli aveva chiesto di andare a prendere i bambini a scuola perché stava poco bene, ma nessuno l'ha più vista. Secondo l'uomo si sarebbe allontanata nuda da casa perché vittima di disagio psichico. Tra le prime ipotesi la fuga volontaria è un malore, ma nove mesi dopo, il 18 ottobre, viene ritrovato il cadavere sotto il fango di un canale di scolo, a soli due chilometri dalla villetta di Costigliole. È in avanzato stato di decomposizione e permette di stabilire solo che la donna è morta per asfissia. Impossibile definire in che modo. A gennaio di quest'anno i carabinieri di Astia arrestano il marito per omicidio. Tutti gli elementi raccolti lo indicano come l'autore, scrive il GIP Giacomo Marson, nell'ordinanza con cui dispone la custodia. Abbiamo visto nei titoli si aggrava la vicenda della Volkswagen, non solo il dieselgate, anche i motori a benzina. Dopo il dieselgate, le false dichiarazioni sulle emissioni di anidride carbonica dei motori a benzina. Una circostanza, quella dei dati truccati, che oggi è stata confermata al Parlamento tedesco dal Ministro dei Trasporti, Dobrind, per il quale le auto interessate sono 90.000. La nuova pericolosa sbandata di Volkswagen rischia di portare il colosso automobilistico tedesco definitivamente fuoristrada. Il contraccolpo è durissimo, un tonfo in un solo giorno di quasi 10 punti percentuali in borsa, che porta il conto delle perdite a oltre 23 miliardi e mezzo di euro dall'inizio del dieselgate. E, come se non bastasse, i gufi dell'agenzia americana Moody's, che declassano il rating da A2 ad A3, con outlook negativo, che, tradotto, significa la previsione nefasta di ulteriori nubi all'orizzonte. Nubi che si possono già intravedere, perché le irregolarità sui veicoli a benzina, secondo molti analisti, sono più gravi di quelle che riguardavano i motori diesel. In Europa circolano oggi migliaia di vetture con il marchio della casa di Wolfsburg, il cui motore a benzina, cilindrate 1.400, 1.600 e 2.000, produce emissioni di CO2 superiori a quanto dichiarato dalla Volkswagen. Nessun problema tecnico, dunque, per le vetture, ma un problema di impatto ambientale di non poco conto, anche perché l'Unione ha da tempo deciso di abbattere le emissioni di gas serra. Le autorità di Bruxelles potrebbero agire, dunque, con due diversi provvedimenti. Il primo, fermare le auto incriminate, e il secondo, multare la casa automobilistica che ha prodotto veicoli contrari alle normative comunitarie. Entrambe le sanzioni sarebbero, come evidente, devastanti per le finanze, per l'immagine e per la sopravvivenza stessa della Volkswagen. Ecco perché oggi in Germania sono stati costretti a ritornare sulla questione anche il portavoce di Angela Merkel e il vice cancelliere Sigmund Gabriel. Per Stefan Siebert la casa di Wolfsburg deve prendere sul serio lo scandalo e fare piena chiarezza creando nuove strutture per assicurarsi che ciò non accada mai più. La risposta gli è arrivata dal vice cancelliere Gabriel, che ha spiegato come Volkswagen abbia tirato fuori da sola la sottostima delle emissioni di CO2 e questo dimostra che adesso la compagnia è seria riguardo alla trasparenza, ma forse potrebbe essere troppo tardi. C'è proprio Calogero Mannino, ospite di Lili Gruber a 8 e mezzo tra poco, insieme a lei ci sono a interrogarlo, a intervistarlo, Salverio Lodato e Antonio Polito. Poi c'è la gabbia, gli ospiti di Paragone sono David Parenzo, Matteo Salvini, Enrico Zanetti, Vittorio Feltri, Claudio Messora, ci fermiamo. Infine le borse, Milano ha chiuso con un meno 0,65 in questo momento, danza attorno alla parità Wall Street, il Nasdaq è proprio a 0, 0 spaccato, invece il Dow Jones perde lo 0,26, è tutto, vi lascio 8 e mezzo e poi la gabbia, buonasera domani. Grazie a tutti.